bene ragazzi benvenuti in un altro fantastico clippino gameplay da sekiro ecco qui ho trovato un interessante metodo un interessante sì un metodo per farmare anche i coriandoli divini voi venite qui venite qui nell'altare dell'anticamera del guerriero all'interno del castello ashina venite quell'altare qua vi fate questo giro qua tac c'è questo samurai qui lo accoppate lo continuate ad accoppare ecco questo giro non ha droppato un cazzo solo monete però questo samurai qui droppa per tutti i coriandoli divini ha un drop rate abbastanza abbastanza raro è però comunque non è poi così infrequente come ecco qui anche stavolta un altro fatto un cazzo però questo samurai qui ha notato che droppa droppa dei materiali di recupero per potenziamento della protesi droppa le compresse ecco vedete ferro di recupero due unità tra l'altro quindi droppa materiali di recupero un po misti compresse e ovviamente quello che ci interessa di più a noi i coriandoli divini vediamo magnetite di recupero questo secondo secondo materiale di recupero che droppa oltre al ferro e voi venite qui come vedete è proprio vicinissimo all'altarino quindi è proprio comodissimo non ci piegate un cazzo tra l'altro vi cattate su anche un po di soldi fate su anche un po di soldi nel giro di poco tempo state qui state qui mezz'ora un'ora e vi droppate un po di roba tra cui anche i coriandoli adesso vediamo ferro di recupero vediamo un po io sono rimasto qua ho fatto una prova prima di fare il clippino sono rimasto qui un quarto d'ora mi ha droppato 3 o 4 coriandoli 3 4 unità dei coriandoli non è male non è affatto male adesso ovviamente che ho avviato la registrazione ovviamente non mi droppa più un cazzo ovviamente adesso vediamo un po di farvi vedere dimostrarvi che droppa assolutamente anche i coriandoli per non fare la figura del coglione a quantomeno è assolutamente consigliato perché comunque ripeto ci impiegate veramente quei 5 6 6 secondi se l'avete subito qua è molto comodo eccoli qua coriandoli di vini unità e via adesso vediamo vediamo quanti altri respon all'altare mi fa fare prima di darmi degli altri i coriandoli qui mandato solamente monete troppo anche le compresse le compresse sono anche loro sono la mano del cielo è un altro oggetto di cui secondo me è sempre consigliabile averne una buona scorta soprattutto durante le boss fight vediamo dai droppami un po di roba testa di cazzo su magnetite che non fa schifo assolutamente ma come vedete nell'inventario ho assolutamente sbloccato il il potenziamento il fantastico potenziamento per il cappello scudo che è un cazzo potenziamento che vi consente di parare gli attacchi spirituali che è la mano è la mano del cielo contro quei bastardi contro i nemici che vi fanno danno spirituale come appunto i guerrieri shikimen 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 come cazzo si chiamano che adesso devo ancora andare a fottere ce ne sono almeno due oltre a quello che abbiamo visto nel clipino postato precedentemente ferro di recupero ce n'è un altro ce n'è un altro che compare compare subito dopo avere sconfitto questo praticamente il boss della scimmia guardiana non la prima volta nella gola della forra ma la seconda volta nella grotta vicino praticamente alla pozza velenosa ferro di recupero ecco lì una volta che avete sconfitto la scimmia guardiana per la prima volta all'interno di quella gola nella forra se voi andate subito subito dopo comunque dopo quella boss fight lì andate nella caverna adiacente alla pozza velenosa ci sarà lo stesso boss sempre in due fasi gli stessi attacchi che vi faceva nella seconda fase della prima boss fight poi nella seconda fase lui molto in maniera molto da simpaticone chiama un altro simione chiama un altro simione che figa vi distrae vi rompe i coglioni e è abbastanza fastidioso eh ecco lì compresse assolutamente compresse ecco lì una volta sconfitta una volta fatta anche quella boss fight lì dei due gorilloni del gorillone doppio praticamente comprerà un altro guerriero shikimen quelli lì che vi fanno continuano a castare continuano a sammonare sti cazzo di fuochi fatue di merda magnetite tanto qui andiamo avanti a a farmare quanto meno monete e altre cazzate come se non ci fosse un domani perché noi vogliamo assolutamente i coriandoli divini e il coriandolo divino è un drop rate abbastanza raro eh però li droppa questi samurai qua li droppano assolutamente adesso vediamo di fare ancora un minutino di gameplay poi piantiamo lì comunque avete capito se avete bisogno urgentemente di coriandoli divini venite qui e c'è un un drop rate abbastanza basso ma comunque concreto che questi cazzo di questo cazzo di samurai qua vi droppi i coriandoli divini ecco come in questo caso fantastico eccezionale bene ragazzi penso che abbiate capito assolutamente come al solito un saluto un saluto e al prossimo clippino di gameplay ciao 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 ciao